Un dramma della solitudine accade all'Aquila, dove un giovane di 32 anni, Massimo Paris, viene ritrovato morto dopo 15-20 giorni nella sua abitazione in via Anticarischia a Pettino. Ieri la macabra scoperta dopo l'irruzione dei vigili del fuoco, allertati dal padre del giovane, che non aveva notizia del figlio, da circa 15 giorni. Il suo volto era completamente sfigurato dal suo cane, che per giorni aveva baiato, soprattutto la notte, come poi hanno raccontato i vicini di casa. Il 118 al suo arrivo non ha potuto far altro che constatare il decesso di Paris. Le indagini ora sono condotte dalla squadra mobile e dalla squadra volante della questura dell'Aquila. Sarà l'autopsia a stabilire la causa del decesso. A casa del ragazzo sarebbero stati trovati anche dei medicinali. Inquietante il fatto che anche tra i vicini di casa nessuno si sia insospettito per la bagliare continua del cane e per l'odore nauseante che proveniva da quell'appartamento ubicato al Civico 1. Una famiglia sfortunata, quella di Massimo Parisse. Nel 2001 la madre, Maria Pia Gian Battista, uscì di casa senza mai farvi ritorno. Il suo corpo fu ritrovato senza vita da un escursionista poco distante dalla sua abitazione. Massimo Parisse lascia il padre e il fratello, che ora si prenderanno cura anche del suo amico a quattro zampe, testimone della dolorosa fine del suo padrone. Grazie. Grazie.